Ci siamo ragazzi, è uscita questa bomba di mercato, Piontek al Milan, Christophe Piontek attaccante attualmente titolare de Genoa a giugno al Milan al posto di Gonzalo Higuain La gazzetta spara questa notizia sulla prima pagina, proprio sulla prima pagina la gazzetta ha messo questa notizia, Piontek potrebbe addirittura arrivare al Milan Piontek ragazzi, iniziamo a partire da questo, è seguito da mezza Serie A, da mezza squadra dell'estero, in questo momento Piontek è seguito da Milan, da Juventus, da Inter, da Napoli, da tutta la Serie A delle squadre più blasonate E ragazzi, il Milan sembrerebbe anche lei essere entrata in questa corsa, Piontek è valutato tra i 60 milioni, 50-60 milioni di euro Il Genoa sicuramente non lo darà via per meno perché appunto Piontek sta facendo una stagione straordinaria, ha fatto 13 gol dietro solamente a Cristiano Ronaldo E alla fine Ronaldo è avanti solamente di un gol e ragazzi veramente io non so se mi prenderei Piontek, ve lo dico Ve lo dico, cioè io lo vedo alla fine come un dopo Iguain, io lo vedo come un dopo Iguain, ma io non mi sento di scaricare Iguain così Io non mi sento di scaricare Iguain così già a giugno, cioè io sinceramente non lo so Perché allora, se fosse stata un'operazione fatta a gennaio per sostituire Iguain, ecco qua il dato del computer Se fosse stata un'operazione per gennaio, mettiamola così, per sostituire Iguain, io non ci avrei mai fatto manco per la vita fare questa trattativa Piontek che viene per 60 milioni, Iguain che se ne va, io non ci avrei mai fatto e ve lo dico perché io non mi sento di scaricare Iguain così Se fosse stata un'operazione di gennaio, perché poi va a finire che Iguain farà schifo fino a fine stagione, il Milan non lo riscatterà e poi si andrà a puntare tutto su Piontek Ma se fosse stata ragazzi un'operazione di gennaio, io non ci avrei fatto perché voglio dare fiducia a Iguain Cioè lui quest'anno ragazzi, Iguain quest'estate è venuto al Milan come un top player, tutti gli hanno acclamato, poi ha fatto qualche partita di schifo È diventato un cesso questo qui, è ridiventato ciccione, non fa niente, non corre Ricordiamo che Iguain uno ha giocato anche da infortunato, perché ragazzi lui giocava da infortunato perché gli faceva sempre male quella schiena Dalla partita contro l'Ulinese, lui ha sempre giocato infortunato Nella partita contro la Spal ha fatto qualcosina, anche quella contro la Spal ha fatto qualcosina, la Spal appunto ha ritrovato anche gol Piontek si ragazzi, cioè io me lo prenderei, però non voglio scaricare così Iguain Non voglio scaricare così Iguain, ricordiamo che Piontek è sicuramente molto più giovane, ha 24 anni E... ha 24 anni, invece Iguain ce n'ha più di 3, ha 31 Ma per me non c'entra un cazzo questa età Sì che Piontek avrà una prospettiva maggiore perché appunto poi tu lo vai a prendere al Genoa Lo puoi valorizzare perché anche se appunto te lo tieni un anno te lo valorizzi Ma Iguain ragazzi ce n'ha 31 anni, non è che ce n'ha 40 Non è che ce n'ha 40 Comunque un atleta, un atleta a fine 36-37 per me li può fare Perché ai tempi di oggi un atleta ti deve riuscire a fare il suo lavoro con continuità Cioè un giocatore non può finire la carriera a 33 anni Per esempio facciamo la questione Godin Dicono tutti che è vecchio Io non vedo questa anzianità se vogliamo chiamarla così di Godin Cioè Godin per me è un colpo della madonna da parte dell'Inter E almeno per tre anni l'Inter si è assicurata una difesa della madonna Perché appunto con Diego Godin titolare in difesa sarebbe un colpo incredibile Quindi io non vedo perché dobbiamo liberarci così di Iguain Ripeto che Piontek al Milan mi farebbe piacere Se Iguain appunto dovrebbe fare schifo in questo giro di ritorno Mi dispiace, Milan non ti scatterà Io ti ho acclamato, mi dispiace Gonzalo Però io sono fiducioso di Iguain, non voglio scaricare Iguain Se fosse stata, ripeto, un'operazione che sarebbe dovuta avvenire a gennaio Quindi se ne sarebbe andato Iguain sarebbe dovuto venire Piontek Proprio in questa sessione di gennaio Io non ci avrei fatto perché voglio dar fiducia a Iguain E io spero che, e sono sicuro che Iguain nel girone di ritorno ci porterà in Champions Detto questo, fatemi come sempre sapere la sua acquisto sui commenti Io vi lascio un bel like sul canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella, ciao, forza mille